Ciao amici d'ItaliaTofGames, buongiorno! Giovedì 27 giugno, server aperti. Tra un secondo andiamo a vedere tutte le novità di oggi. Prima fatemi dire sempre che è davvero importante il vostro supporto. Con il like a questo video, quello dei server on, vi chiedo sempre un supporto superiore. Vi chiedo un supporto per l'iscrizione al canale, se ancora non l'avete fatto, iscrivervi e attivare la campanella. Anche questo è importante, abbiamo superato quota 17.000, speriamo di arrivare presto a 20.000. Grazie a tutti quelli che si sono iscritti da 5, 6, 7, 8 anni. Grazie a tutti gli abbonati storici e magari se volete supportarci di più potete abbonarvi al canale. Oppure fare i vostri acquisti su Amazon passando per il link di affiliazione presente all'inizio della descrizione del video, nel commento e nel commento fissato in alto. Basta cliccare sul link, qualsiasi cosa acquistate, una piccolissima, davvero piccolissima parte va a noi, ma ci supportate anche in questo modo. Se volete ci sono anche i super grazie e adesso andiamo subito a vedere le novità di oggi. Vi ho già mostrato la maglia dell'Inter e gli avatar dell'Inter. Mi sono loggato prima per errore, quindi adesso non vedrete questi regali, ma vi li posso assicurare. Ci sono sia gli avatar e sia la maglia dell'Inter in regalo. Eccola qui la campagna, lo potete vedere, ne abbiamo visto prima. Eccoli qui gli avatarset, Inzaghi, Lautaro Martinez, Barella, Cialanogla e Sommer e la maglia della prima stella dell'Inter. Andiamo subito a vedere la condizione dei giocatori. Griezmann B, Mbappé C, Ronaldo B, Chaumaini B e Dembele B, Saliba B, Rudiger, Hernandez e Samba C, Hakimi, Oliund, Garnaccio C, Konami, Donnarumma B, no, Donnarumma è A tutta la vita questa settimana, Barella B, Bruno Fernandes B, Diebigac, Podrosard C e Messi A. Andiamo a vedere anche le riserve, le potete vedere tutti quanti e potete vedere tranquillamente quello che vedete. Queste sono le condizioni dei giocatori. Andiamo poi a vedere il campionato offline, eccolo qui, andiamo un po' a vedere quali sono i giocatori in prestito. Eccolo qui, Morientes 96, Xavier Alonso 96, Cannavaro, vediamo il nuovo logo del Napoli, quindi lì, brutto brutto, azzurro, Nap, così. De Jong 96, Timber 94, Bijol 93, Mazzrui 93, Musler 92, Valojes 91, Gnabri 94, Pedri 94, Odecar 94, Unchetia 93, Samuellino 93, Sadilek 91 e poi ci sono i giocatori del Bologna, squadra che ho scelto per fare il campionato, poi non lo gioco mai, ma questa è un'altra storia. Eventi, ragazzi, PvP, torna il team play fan, PvP, fino al solito, fino a domenica, i premi 20.000 GP, 10.000 punti ESP, eccetera, eccetera, c'è un'aggiunta abilità, sempre fino a domenica. National Teams, dovete scegliere una squadra, se non avete tutti i giocatori ve li presta il gioco, non vi preoccupate, quindi scegliete la nazionale che volete. Premi sfida, 50 monete di football, programma aggiunta abilità per uno, programma aggiunta abilità per due. C'è poi il Golden Goal, regali, ci sono 10.000 punti ESP per due, 10.000 punti ESP per due e basta. Una settimana in cui si regalano ancora i punti ESP non ha molto senso come regalo, però vabbè. Spanish Clubs, e qui dovete scegliere un po' come per le nazionali una squadra della Serie A o della Serie B spagnola, premi sfida, 50 monete punti football, una aggiunta abilità e due aggiunta abilità. Quindi questa settimana almeno 100 monete d'oro dagli eventi si possono farmare. Versus SIA, torna il beat the clock, con le condizioni 10.000, 10.000 GP, 10.000 GP, 10.000 GP, 10.000 GP, 10.000 GP, tutte 10.000 GP, le aggiunta abilità, i punti allenamento, aggiunta abilità, aggiunta abilità, e questo è quanto, mai monete per carità. C'è lo United Team, Coop vs IA questa volta e questo è per tutta la settimana, non mi chiedete perché questo sì tutta la settimana e il PVP no, comunque 20.000 GP, 10.000 punti ESP e il premio massimo è l'aggiunta abilità e poi ci sono anche i premi casuali, diciamo. National Teams, qui dovete mettere i giocatori bonus delle varie nazionali, che qui potete vedere in dettaglio, 30.000 punti GP, 30.000 punti GP, un accordo al buio, c'è anche uno Spanish Clubs, oh, almeno ci sono due accordi al buio in regalo questa settimana per i giocatori della settimana per i BOTV di Europei e Coppa America, 30.000 GP, 30.000 GP e un accordo al buio. Poi, 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 cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere il negozio, ma sono ultra pessimista. giocatori, nessun giocatore è disponibile e non vado oltre nei commenti. I pacchetti non credo che ci siano limitati, infatti Argentina, Francia, Inghilterra, Portogallo, Turchia, Brasile, Guardiola e Xabi Alonso. Missioni, missioni, questo ci interessa. Gli obiettivi, c'è il King of the Continent che continua, trionfa nelle partite versus SIA, segna gol nelle partite PvP, segna gol nelle partite evento Co-op, qui, infatti, poi salgono ancora 9, qui salgono fino a 9, pure qui, e qui salgono fino a 12. A me, ad esempio, manca solo l'accordo al buio Argentina e poi ci sono altri premi, fino a 45 premi. Torna il settimanale, premi, un'aggiuntabilità, un'aggiuntabilità, un'aggiuntabilità. Ah, c'è anche l'aggiunta posizione, anche qui c'è l'aggiunta posizione, questa è carina la cosa dei obiettivi settimanali, ci fosse stata anche qualche moneta, non ci dispiaceva, almeno a me, non so a voi. Allora, cosa vedere infine? Cosa vedere infine i contratto e i pool. Allora, vediamo che intanto i contratti mirati finiscono fra due settimane, quindi se vi interessa qualcuno tra National Star, G League e Brasile Rao Betano, ci sono giovedì non il prossimo, quell'altro ancora se ne vanno. I Worldwide e gli European stanno qui ancora per due mesi, i Trendy Olli e le Ligan sono già stati visti, c'è la novità dei league an Uber Eats, del player of the season, del campionato francese. Eccolo qui, a Berghel onnipresente, 92 med, Gilbert 92 terzino difensivo, Suaz 92 terzino offensivo, Operi 92 terzino offensivo, Mika Utazze opportunista 92, Cham 92, giocatore chiave, questi sono già livellati ragazzi, sono i POTS in questo caso, e non si possono livellare, questo è quello che hanno e non possono fare di più, se non in game con gli allenatori eccetera, che aumentano, ma questo è il loro livello. Aubameyang 93, Savanier 93, Del Castiglio 93 alla prolifica, La Font, un portiere dai tempi di Pessera, un anno fu proprio la sorpresa tra i portieri, Ito 93, giocatore chiave CLD, Anthony Lopez 94, portiere offensivo, Borigo 94, onnipresente, Danzo 94, incontrista, David 95, opportunista, Fofana 95, onnipresente, presente anche nel Pool Francia, e Dembélé 96 alla prolifica, anche lui presente nel Pool Francia, comunque questa è la versione già livellata, Player of the Season. E poi, e poi, e poi abbiamo i J-League Monthly MVP, che come al solito sono quelli del PUM, PUM 5 in più, la questione è che dovete sempre avere un più 3 a tutte le, avere 20 giocatori del campionato giapponese, quindi questi sono pool destinati o ai giocatori giapponesi, o ai super eventomani, neanche eventomani, direi super eventomani, PUM, i soliti 5 punti in più, Shijima, Inukai, Suzuki, Brum Brum, attaccante di rientro, PUM, 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 e, Nakajima opportunista, PUM, va bene. Allora, andiamo a vedere poi il pool che ci interessa di più, giocatori della settimana, come detto, due giri gratis questa settimana, e come vi avevo anticipato ieri, qualche 4 stelle, nonostante ci sia, sia Coppa America, sia europei, c'erano, Arafuio, 91, CLS, specialista di cross, per l'Uruguay, Xobot, giocatore chiave, 91, Bravo, del Cile, portiere offensivo, questi non sono nessuno bustati, Ames Rodriguez, ve l'avevo anticipato ieri, che era probabile che ci fosse lui, un effetto più 3 di boost, se l'attivazione lo sapete, Live B, Live A, un bel po' di abilità giocatore, 93 alla prolifica, Trauner, della sorpresa degli europei, fino a questo momento, Austria, 92, sviluppo, eccolo qui, De Vrij, 93, sviluppo, per l'Olanda e l'Inter, Rabiot, anche Rabiot ha il logo Juve, quindi sono giocatori che per gli eventi del campionato italiano si possono usare, era ora, 93, onnipresente, Zinchenko, terzino mattatore, 93, non ha portato bene all'Ucraina, l'inserimento di Zinchenko nei POTV, perché ieri l'Ucraina è stata eliminata dagli europei, Alvarez opportunista, 94, infine, U Bernardo Silva, che parte con il boost da 97, controllo palla, 94, dribbling, 92, possesso stretto, 93, la velocità non è altissima, ma stiamo parlando di un giocatore che con boost attivato è davvero abbastanza impressionante, diciamo che tutti i parametri offensivi sono ottimi, solo la velocità non è altissima, io lo proverai sicuramente se tra i due giri gratis lo becco, e poi c'è De Bruyne addirittura a 97, con il boost arriva a 98, anche lui è decisamente impressionante, anche più veloce di Bernardo Silva, giocatore agilità più 3, insomma, un bel bel giocatore. Va bene ragazzi, per il momento è tutto per oggi, abbiamo visto davvero tutto dall'aggiornamento di oggi, vi attendo questa sera alle 20 con due belle partite, e soprattutto la prima, sì ho già registrato ieri con le valutazioni vecchie, da oggi registro fino a domenica con le valutazioni nuove, io vi auguro una buona giornata, se ci sono breaking news ovviamente faremo video ad hoc, altrimenti ci vediamo questa sera alle 20, likecate il video, iscrivetevi al canale, ciao!